Come ogni inizio di anno qui a Piazza Sant'Agostino, a causa della movida che c'è tutte le sere, noi puntualmente troviamo di tutto e di più. La cosa che mi fa arrabbiare è che lunedì arriveranno i bambini e che nessuno in tutta l'estate ha provveduto a ripulire questa zona proprio antistante l'ingresso della scuola. Ricordo perfettamente l'ultima volta che fu pulita e disinfettata e fu quando arrivò a gele il ministro Alfano. Dopodiché qui è abbandonato. Io protesterò energicamente insieme a tutti i genitori. Se entro lunedì qui non sarà pulito andremo tutti a protestare. Allora io faccio un appello sia ai ragazzi che ogni sera si appartano dietro questo bellissimo muro del pianto che allora scelleratamente fu costruito e quindi creando degli angoli appartati dove si trova di tutto. L'appello è per questi ragazzi, perché sono ragazzi, la maggior parte dei gelesi non sono così, ma questi sì, purtroppo lo sono. E' un appello agli organi competenti perché controllino di più e perché puliscano e disinfettino.